Le reazioni da parte dei leader internazionali all'attacco di Israele nella notte tra venerdì e sabato contro gli obiettivi militari in Iran, no a Escalation. Guerra in Ucraina, attacchi russi con droni su Kiev e Dnipro, almeno 5 morti e decine di feriti, Mosca rivendica conquista di un villaggio nel Daniesk. L'attacco di Israele nella notte tra venerdì e sabato contro gli obiettivi militari in Iran ha generato le reazioni da parte della comunità internazionale. I leader occidentali, ma anche quelli del mondo arabo, invitano alla Escalation. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha esortato alla massima moderazione. L'invito che facciamo a Tehran è quello di non favorire un'escalazione. ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ha poi assicurato che i 450 connazionali presenti in Iran stanno bene. L'affluenza alle ore 17, le 15 in Italia, in Georgia, per l'elezione del Parlamento si è attestata al 50,6%. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale del Paese. La percentuale equivale a oltre 1.700.000 elettori, su una popolazione di 3.700.000. La presidente Salomese Urabishvili ha denunciato atti di violenza profondamente preoccupanti a margine delle elezioni legislative in corso sabato 26 ottobre. I video condivisi online mostravano scontri avvenuti a margine del voto. Le legislative in Georgia sono considerate un referendum tra Europa e Russia, tra pace e guerra, cruciali per il futuro del Paese. Il confronto è da un lato tra il partito attualmente al governo, Sonio Georgiano, fondato nel 2012 dall'oligarca Bizzina Ivanishvili. Dall'altro una coalizione di quattro principali gruppi di opposizione che si impegna a formare un governo tecnico per arginare la deriva filorussa del Paese. Un attacco russo con drone di venerdì sera ha colpito un edificio di 25 piani a Kiev. Secondo fonti sanitari locali ci sarebbero almeno un morto e cinque feriti. I soccorritori sono arrivati sul posto per spegnere l'incendio che si è generato dopo l'attacco. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha riferito che uno dei cinque feriti è stato portato in ospedale e che sul posto è stata allestita una tenda di primo soccorso. Il servizio di emergenza ucraino ha dichiarato che l'attacco ha danneggiato diversi appartamenti dell'edificio e che circa 100 persone sono state evacuate dopo l'impatto del drone. Attaccata anche Dnipro, i morti sono almeno 4 e 20 feriti. Sabato mattina il Ministero della Difesa russo ha rivendicato la conquista del villaggio di Aleksandropol, nella regione di Daniesk. Il di Castero ha anche riferito di aver colpito aeroporti militari ucraini e siti di stoccaggio di droni. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Mezzola, ha avuto un'udienza privata in Vaticano, durante la quale ha discusso con Papa Francesco dei principali temi dell'agenda europea. Mezzola ha elogiato il pontefice per la sua leadership nel promuovere la riconciliazione e la pace e ha sottolineato che l'umanità e la ricerca della pace sono allo stesso modo al centro del lavoro dell'Europarlamento, ribadendo l'impegno in tal senso dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'Ucraina, Mezzola ha affermato che l'Unione europea continuerà a sostenere Kiev contro l'aggressione ingiustificata della Russia. I due hanno parlato anche di migrazione e Mezzola ha affermato che è necessario un approccio europeo e umanocentrico che non lasci nessun paese o individuo senza sostegno. Parlando del Medio Oriente, Mezzola ha rassicurato il Papa sul fatto che l'Europa continuerà a impegnarsi per smorzare la situazione e ha affermato che è necessario trovare un modo sostenibile per raggiungere una pace a lungo termine. Grazie Grazie